Il Parco Nazionale dell'Appennino Toschemiliano ha recentemente istituito il UAC nel tentativo di affrontare in forma associata e coordinata con tutti gli enti e servizi competenti in materia i diversi aspetti che attengono alla conservazione del lupo. Non è un'operazione facile, si tratta infatti di far sedere attorno allo stesso tavolo chi a diverso titolo è chiamato ad occuparsi della conservazione del lupo. Il UAC lavora in forma associata con i veterinari delle asle che sono competenti per l'accertamento dei danni da predatori, con il Corpo Forestale dello Stato che si occupa della vigilanza e con le province che sono competenti per la gestione della fauna selvatica, inoltre collabora anche con l'area dei progetti confinati. Quando si parla di lupi sono ancora molto diffusi i pregiudizi e le informazioni scorrette, proprio per questo che riteniamo molto importante rendere partecipi del nostro lavoro tutte le persone interessate a questo argomento. Per condividere con voi il nostro approccio alla conservazione del lupo, le nostre esperienze e le soluzioni adottate abbiamo deciso di realizzare dei filmati che potrete vedere sulla pagina Facebook del Wolfhapenheim Center, sul sito del Parco Nazionale dell'Appennino Tosquemiliano e sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti!